Allora, adesso è giunto il momento di iniziare a preparare la zona dove... Oh, ciao Carlito! Dove verniceremo? Ciò vuol dire iniziare a mettere i teli. Andiamo subito a mettere i teli. Partiamo. Allora, abbiamo un sacco di teli, che sono questi normali in plastica, e ne abbiamo due. Queste sono le tute. Questi sono quelli in plastica. Qui abbiamo delle tute usate. Qui abbiamo plastica usati, quando avevamo andato a caldo, avevamo usato questi. Un altro mezzo rotolo di quelli in plastica, un pennello che adesso non ci serve, e poi... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, di questi qua che hanno la parte morbidina sopra. Quindi, io metterei quelli con la parte morbidina sopra, tutti i lunghi per terra. Sì, bimbole. E, quindi, iniziamo così. Poi vediamo. Carlito no? Ruba i teli, Carlito. No, Carl! No, Carlito. Musica Musica Voi direte perché coprire il pavimento, il pavimento di un capannone, chi se ne frega se si sporca? Semplicemente perché non è nostro e quindi non è giusto sporcare una cosa che non è nostra E quindi ecco fatto Allora in una parte con i teli quelli doppi è fatto E adesso qua più avanti che non arriveranno le gomme di Pluto possiamo mettere anche i teli quelli un po' più fini Che sono un pochino più delicati, vero carito? Sto cane Oh Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un'operazione un po' delicata perché questo filo si può rompere, quindi spero di non romperlo. Mi sembra... I posto! 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 Bene! Un'altra cosa fatta! Fantastico! Benissimo! Abbiamo fatto pranzo, la sala verniciatura è finita e pronta e quindi adesso iniziamo a incartare. Parto dall'interno, nel senso dei buchi che si possono coprire dall'interno del mezzo per poi passare fuori perché poi verranno chiusi tutti gli ingressi e non potremo più entrare quindi conviene partire da dentro. Per l'occasione è venuto a trovarci anche Filippo, che non ha più il dito steccato, che sta giocando con la pistola per verniciare anche se non è ancora un momento di verniciare. No, non è vero, sto litigando in questo giorno funesto con il computer perché non funziona e non si riescono a montare i video quindi lui si dedica a quello. E niente, io vado su a pulire. Ting! Vado. Iniziamo da il buchino lì davanti. Ciao. 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 Ok, direi che posso cominciare con una finestra che così vediamo cosa riusciamo a fare. Sono qui. Il buchi è beato. L'uoku canale lì e dal 아닙ana mi è al Instagram. Et04, c'è dell'isначale iniziamo alla sentita e buona. Wow, getruvo. Torniscono ancora. Tornisi. Do quanto sentito ce mi fmi, torri, acronixi a comprandi, la realtà. Qui è stato pote, sentito. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ma do che luce. Mi piace la luce in faccia, quindi ho acceso il faretto. Scalda anche un po'. Scalda anche un po'. Ci facciamo anche l'ombra. Seconda giornata di incartamento. Sì, sono molto contento. Teoricamente se riusciamo a incartare tutto prima di pranzo, oggi pomeriggio si vernicia. Quindi vediamo di mettere il turbo. Abbiamo saltato il video di ieri, non so se Sare ve l'ha raccontato, ma il computer si è impallato male. Quindi ho fatto una cosa che rimandavamo da tempo, cioè formattare tutto quanto e reinstallare tutti i programmi. Cosa che mi ha portato via tutto il giorno ieri. Infatti ho aiutato Sare penso 20 minuti, ieri Sare basta. È stato molto gentile. E niente, però il video ve lo volevo farlo uscire stasera, alla fine lo rimandiamo probabilmente a domenica o a mercoledì. E adesso ci mettiamo sotto a incartare, anche perché poi questo weekend andremo in montagna. Cosa da fare? E andremo in montagna apposta per lasciare la vernice ad asciugare. Quindi se non la... Non si può fare il resto. Quindi ora ci mettiamo duro a mettere la carta. Sare farà i bordi più precisi, io farò quelli... Gli altri. Fortunatamente, che sono? Ti levi signora? La più precisa, non gli piace come sono fatti quelli che faccio io, allora... Se ci puoi impagniarsi a pulire più, ti faranno la pulire sicuramente. Che vero? Simpatica. Come potete vedere, Pluto ha tutte le porte sigillate. Ovviamente mancano ancora delle parti da chiudere, però i grossi vetri è tutto fatto. C'è un problema però, c'è Serena dentro. Aiuto! La vedete? Aiuto! Vai, esci, salta. Salta! Salta! Stai partendo più in alto. Avicino alla scala. Va bene. Così... No, 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 no. Partoriamo Serena. Una mano? Non mi serve, non siamo. Voilà! Carrito, Pluto, portorito Serena. Che schifo! Quello è scelto da portodietro. È stata una bella scena questa. Immagino che la stavate aspettando. Altre livelli di YouTube Italia. Esatto. Che... Che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho un pochino sottovalutato la situazione, nel senso che noi entro stasera volevamo verniciare, in realtà non abbiamo neanche finito di incartare. Quindi ci siamo fermati, abbiamo incartato tutte le finestre, tre ruote su quattro, iniziato con il cofono davanti e con i portelloni dietro e poi basta. E adesso ci fermiamo, continuiamo quando torniamo, ritarderemo un pochettino le cose. Perché? Perché abbiamo sentito Luca e Fiammetta in questi giorni e abbiamo deciso, dato che in teoria il meteo dà neve, di andare due giorni in montagna. Cioè da stasera che è venerdì sera fino a domenica sera. E sperare di trovare un pochino di neve. Cosa che il meteo dice, ma ultimamente almeno qua non scende né una goccia d'acqua né un filo di neve da mezzi ormai. E quindi siamo molto dubbiosi su questa cosa, però speriamo di beccarci un po' di neve. Il discorso dei teli della costruzione sta reggendo, sembrava più fragile di quello che è in realtà, dato che è stato costruito solo con un filo da pesca e i teli con i sottilini sottilini, invece sta reggendo bene. E niente, noi andiamo in montagna. Visto che ci siamo vi ricordo di iscrivervi al canale se vi fa piacere, è gratuito e ci fate un favore enorme. E niente, al prossimo video. Ciao!